Buongiorno a tutti! Un grosso saluto dal Veneto! Ho con me qui questa mattina, su questo favoloso palco, il sindaco di Castelfranco Veneto, Marco Stefano e il sindaco di Rovigo, Massimo Bergamin! Sono in rappresentanza dei tanti sindaci che abbiamo avuto e abbiamo conquistato tanti comuni nel Veneto in questa tornata elettorale. Io devo ringraziare innanzitutto tutti i sostenitori, tutti i militanti, tutti i candidati che si sono spesi in questi 60 giorni di campagna elettorale. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato in Veneto, riportando a governare il nostro Veneto, il nostro doge Luca Azaia! Ma qui, di fronte a voi, volevo ritornare a circa 60 giorni fa, quando qualcuno ha tradito il nostro movimento, quando qualcuno ha tradito la fiducia dei leghisti, quando i giornali, le televisioni ci davano per spacciati, ci davano una Liga Veneta divisa all'estremo e abbiamo visto che così non è stato, abbiamo lavorato duro, sodo e abbiamo ottenuto un grandissimo risultato e questo grazie a tutti quanti voi. Vedete, ogni tanto un albero deve essere potato e noi l'abbiamo potato e così è cresciuto per il rigoglioso e abbiamo ottenuto più del 50% di voti! Il 31 maggio in Veneto si è svolto già un referendum, un cittadino su due ha votato per la propria libertà, ha votato per l'indipendenza del Veneto, noi l'abbiamo già fatto il 31 maggio! Ci attendono cinque anni duri di grosso lavoro ma sono convinto che con Luca Zaia e la sua squadra di consiglieri che poi sarà sul palco avremo dei grandi risultati a favore del nostro popolo veneto che ha una millenaria storia che vogliamo far rivivere. Non da ultimo la cilindicina sul dolce, abbiamo vinto anche a Venezia, cosa non da poco togliendo la città a un'amministrazione di sinistra che perdurava da tantissimi anni. Bene, io vi saluto tutti, veramente sono emozionato, non avevo mai visto tanta gente così in tutti questi anni che vengo a Pontida, quindi grazie, grazie di cuore, grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che farete, sempre avanti, sempre con il nostro segretario federale Matteo Salvini, con il nostro Luca Zaia, sempre avanti per la nostra libertà! Grazie a tutti, ciao Pontida!